gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia chi sono i grillini i politici 5 stelle che si dimenticano di pagare il loro partito voi sapete che in tutti i partiti d'italia i politici pagano cifre diverse ci sono i 900 euro di forza italia più un ingresso di 30 mila euro ci sono ad esempio ci sono ad esempio i nel partito democratico che pagano circa 2000 euro al mese nella lega 3000 euro quindi possiamo dire che in tutti i partiti pagano l'unica differenza che i grillini ai tempi quando cominciarono e entrarono in parlamento restituivano qual è la differenza che gli altri politici pagano il loro partito i grillini restituivano i grillini restituivano realmente allo stato perché versavano una parte del loro stipendio lo versavano nel fondo del microcredito quindi un fondo statale quindi realmente facevano tornare indietro una parte del loro stipendio ma poi hanno cambiato poi hanno aperto un conto corrente a nome di del capo politico più i due capi gruppo quello di camere senato e versavano lì questi soldi ma i grillini poi non hanno mai saputo come venivano utilizzati ma realmente non importa come venivano utilizzati questi questi soldi perché perché anche negli altri partiti non è che gli altri partiti dicono esattamente dove dove vanno questi soldi perché questi soldi servono a far funzionare il partito alla campagna elettorale ai ristoranti gli alberghi comizi tutto sono spese di rappresentanza che utilizzano i partiti ma i 5 stelle hanno cominciato a non pagare perché perché i 5 stelle hanno il vincolo del secondo mandato cosa vuol dire che quando arrivano come politici eletti in parlamento a montecitorio e a palazzo madama a quel punto hanno un patto con il movimento anche scritto dove loro devono restituire ogni mese 2200 euro restituire nel senso a dare al partito e 300 euro per la piattaforma rosso ma molti non pagano ma perché non pagano molti non panno molti non pagano perché sanno perfettamente che prima o poi perderanno quel lavoro quel lavoro è solo un lavoro saltuario perché con il vincolo del secondo mandato prima o poi saranno disoccupati dalla politica e quindi quei soldi non li pagano spedito tanto se cade il governo io me li tengo e poi chi si è visto si è questo è la differenza perché oggi ad oggi gli unici che non pagano che non pagano il loro partito sono i grillini quelli dell'onestà onestà siamo gli unici che restituiscono adesso sono gli unici che non pagano o perlomeno una gran parte di loro non non paga il movimento naturalmente ce ne sono anche di ad esempio della taverna trizzino taverna è una politica che punta a fare il capo politico dei 5 stelle e pensate un po non da questi soldi questo è uno è uno dei è uno degli esempi è uno degli esempi che più noti quindi i grandi contestatori di davide casaleggio ma anche i big che non ti aspetti ad esempio sono 27 i parlamentari 5 stelle che ieri hanno ricevuto una lettera una sorta di sollecito e che ora rischiano sanzioni sono 10 senatori e 17 deputati tra loro spicca paola taverna vicepresidente del senato volto storico dei 5 stelle che è in testa tra quelli che sono per il sì per il terzo mandato degli eletti pentastellati ovviamente tutti i grillini sono per il terzo mandato però per adesso non dicono niente perché hanno paura di essere le mosche bianche magari di essere anche trattati malamente dai vertici del movimento 5 stelle che per il momento ufficialmente sono per il no al a fare un terzo mandato e così tutti i ritardatari delle restituzioni chiamiamole così ora hanno pochi giorni per saldare altrimenti scatteranno i provvedimenti decisi dai probiviri diversi a secondo dei casi preoccupa un drappello di senatori un gruppo di senatori con i numeri della maggioranza in bilico alla palazzo madama quindi molti 5 stelle sanno che tanto non possono essere espulsi a questo punto perché non ci sono i numeri non ci sono i numeri in senato quindi sfida io non pago prova a buttarmi fuori che così voi non avete più i numeri e andiamo tutti a casa quindi un braccio di ferro una prova e di forza ma molti non pagano già da più di un anno e fate il conto 2200 euro 2 2500 euro in un anno sono circa 30 mila euro quindi immaginatevi chi non paga già i 2000 se poi va a pagare 30 mila tutto in una volta non credo proprio c'è chi come la senatrice marinella pacifico è ferma a maggio dell'anno scorso il deputato paolo romano risulta invece fermo ad agosto tra i destinatari delle lettere inviate c'è anche emanuele dessì e giorgio trizzino molto critici con casaleggio molti anche i parlamentari al secondo mandato come arianna spessotto michela montevecchi giulia grillo daniele del grosso figurano tra i ritardatari l'invio delle lettere ha scatenato le reazioni dei governisti girano voci di un luigi di maio dir poco infuriato dalla mossa dei probiviri e dalla lettera di casaleggio agli iscritti alcuni governisti protestano ma come si permettono a cinque giorni dal voto ma c'è chi nel movimento ricorda che la scadenza dei termini era stata fissata inizialmente per luglio e protratta fino proprio per evitare azioni che indebolissero il governo ogni volta c'era una scusa buona per rimandare voi sapete che casaleggio è intervenuto dicendo che visto che molti non pagano perché i grillini politici non è che non pagano solo non è che non pagano solo il loro partito non pagano neanche la piattaforma rosso che sono altri 300 euro 300 euro al mese sono 3600 all'anno ecco 3600 all'anno in cinque anni di legislatura ammesso che duri cinque anni fate 3600 per cinque anni sono 18.000 euro all'anno di piattaforma rosso con 18.000 euro ci comprano una macchina per esempio e quindi molti non pagano neanche la piattaforma rosso e casaleggio era intervenuto dicendo beh visto che molti non pagano mandando una lettera agli iscritti alla piattaforma dicendo visto che i politici non pagano devo ridurre i servizi della piattaforma proprio che non ci sto con le spese devo tagliare anche del personale io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie e buon proseguimento di giornata ci vediamo tra tra poco in un altro video arrivederci a tutti